Le difficoltà di questo governo nell'approvare la manovra? Le difficoltà di questo governo intanto è stata approvata una manovra che io considero non la migliore in assoluto ma un punto fermo dal quale partire per cercare di migliorare in Parlamento. Poi purtroppo c'è una dinamica nella politica, nella politica nel nostro Paese dove bisogna sempre esasperare i concetti, dove bisogna individuare non l'elemento che unisce ma l'elemento che divide. Abbiamo posto le basi per impedire l'entrata in funzione delle clausole di salvaguardia 23 miliardi di euro che non saranno ripartite sulle famiglie e sulla competitività delle imprese. Abbiamo fatto delle proposte per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda anche il settore agricolo 600 milioni di euro che vengono destinati nel settore agricolo. Abbiamo fatto delle proposte che parlano di donne in campo, di rinnovamento e l'ingresso dei giovani nel settore. Ci sono dei punti di criticità sulle quali abbiamo detto e ribadiamo. Io non vedrei come un punto di difficoltà del governo. Si presenta una proposta e poi si va in Parlamento e si lavora per migliorarla. Sulla questione che lei diceva vale la pena? Sì, vale la pena se si lavora con l'approccio che bisogna dare soluzioni ai problemi che il Paese ha di fronte. perché se il potere è solo una gestione personale di soddisfazioni e anche di ambizioni personali per carità legittime però molto abbastanza che immiseriscono il ruolo della politica. Io penso che in una fase in cui la politica ha il dovere, ha bisogno di recuperare autorevolezza deve partire da questa domanda. Vale la pena? Sì. Vale la pena se lavoriamo per risolvere i problemi.